Francesco Rotunno, 64 anni, accusato di aver ucciso domenica scorsa la madre Cesina Bambina Damiani, 88enne, disabile, nell'abitazione con la quale viveva in corso Umberto a Casoli, si trova da ieri pomeriggio in carcere a Lanciano. I carabinieri lo hanno trasferito dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Lanciano in carcere in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa su richiesta del PM Serena Rossi. Per domani è previsto l'interrogatorio di garanzia. Questa mattina Rotunno ha incontrato il suo avvocato Silvana Vassalli. Sì, ho appena incontrato Francesco, ieri pomeriggio è stato tradotto qui nella casa circondariale di Lanciano, vive ancora in maniera spaisata e sgomenta questa situazione, quindi non ci sono elementi che possono oggi essere riferiti né alla stampa né agli inquirenti. Quindi dobbiamo prima approfondire qual è il quadro clinico, psicologico, psichiatrico, ma anche e soprattutto come si sono svolti gli eventi prima di poter esprimere anche una linea difensiva. Ecco, quindi il suo stato d'animo qual è? Lui dice che è presso al momento, è totalmente provato, è difficile qualsiasi forma di colloquio, tant'è vero che è stato più un colloquio amicale che professionale oggi. Lei come pensa di muoversi? Lo ripeto, oggi mi preoccupa più la persona che non l'indagato imputato, perché se lui non raggiunge un grado di lucidità diventa anche difficile stabilire una linea difensiva comune.